Salve a tutti, faccio questo video per annunciarvi che stasera non c'è la live Mi dispiace se vi aspettavate una live, ma purtroppo stasera non ci sarà perché principalmente non c'è nessun argomento di cui parlare Anche se lo facciamo solo per stare in compagnia, alla fine finiamo solo per annoiarci come finito con le ultime live Quindi preferisco saltare questa live e permettermi stasera, prima di tutto, organizzarmi con i video di domani Farò uscire due video per quanto riguarda la premiere, le ultime due lotte che ho fatto, le faccio uscire domani Perché domenica è Pasqua, quindi nessuno si cagherà niente, ovviamente E poi anche perché ho saltato un giorno, quindi devo recuperare e recupero tutti i due domani Quindi, stasera mi occupo di questo e mi occuperò anche di finire i preparativi per quanto riguarda il torneo semestrale del canale Vi ricordo che ci sono stati due tornei, c'è stato un torneo sei mesi fa in Overused E ci sarà un torneo adesso a breve, inizierà martedì e sarà in VGC 2015, come molti di voi hanno richiesto Quindi finirò gli ultimi preparativi e occuperò stasera, però appunto devo rinunciare alla live Che comunque è una cosa che non mi dispiace particolarmente perché ve l'ho detto Allora, infine, finiamo solo con l'annoiarci perché non abbiamo nulla di cui parlare, no? Questo è quanto, ho preferito fare un video piuttosto che un post su Facebook perché è un po' più diretto il video Anche perché lo faccio con la cosa di YouTube che ci metto un attimo Anche se verrà in qualità infima, 240 progressivo è un audio che sembra uscito da uno scatolone, no? Sembra che sono chiuso da uno scatolone e parlo tipo con una voce così Una cosa indecente del genere E vabbè, poco importante comunque Seguite sempre la pagina Facebook, fatevi tutto in descrizione Perché appunto vi darò tutti gli aggiornamenti Se per quanto riguarda i nuovi video Che per quanto riguarda il torneo Io vi ringrazio Ci vediamo Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti